Andrea Dal Corso contro l'ex rivale Luca Daffre, lo sfogo su Instagram Andrea Dal Corso è tornato a parlare del suo ex rivale Luca Daffre. Ecco che cosa ha scritto sul suo profilo Instagram. L'amicizia e la rivalità tra Andrea Dal Corso e Luca Daffre. Andrea e Luca si sono conosciuti a Temptation Island, in cui entrambi hanno partecipato nel ruolo di tentatore. Tra loro è nata una bella amicizia, ma quando è iniziata la stagione di uomini e donne si sono ritrovati a corteggiare la stessa ragazza. Luca non ha accettato questo comportamento e si è sentito tradito da Andrea. Tra loro in studio ci sono stati molti litigi anche se poi Teresa Langella, latronista, ha deciso di eliminare Luca. . Quando Andrea ha detto di no alla scelta di Teresa, Luca non ha perso occasione per ribadire il suo pensiero negativo nei suoi confronti dicendo che Andrea Dal Corso è una persona falsa. . Andrea torna a parlare di Luca. Adesso le cose tra Andrea e Teresa sono ben diverse. Lui si è pentito del no e ha cercato di riconquistarla. . Dopo mesi, alla fine è riuscito a guadagnare di nuovo la fiducia dell'ex tronista e adesso hanno iniziato una storia. Recentemente sono stati ospiti a Uomini e Donne e si sono detti davvero molto felici. . Nel suo profilo Instagram un utente ha chiesto ad Andrea Dal Corso se pensa di aver sbagliato con Luca da Frey. . L'ex corteggiatore ha risposto in modo molto chiaro a questa domanda. . Assolutamente no. . Non voglio entrare in merito al suo reale interesse a suo tempo nei confronti di Teresa, ma levarmi l'amicizia davanti a tutta Italia soltanto per aver deciso di conoscere una persona che stava conoscendo anche lui e mi è sempre sembrato di cattivo gusto. . . Andrea ha ammesso di essere deluso dal comportamento di Luca e ha confessato che si aspettava almeno delle scuse. . Ecco le sue parole. . La cosa che più mi ha fatto ricredere sul suo conto è che perfino ora che i muri vedono i miei occhi innamorati, non si è degnato nemmeno di un messaggio di scuse o di auguri. . Non abbiamo tutti la stessa sensibilità. . Gli auguro di trovare il vero amore come è successo a me. . Luca da Fre sarà la scelta di Angela Nasti?. . Il percorso di Luca nel trono di Teresa non è andato molto bene, ma dopo qualche mese è stato richiamato dalla nuova tronista Angela Nasti. . Questultima è vicina alla scelta e sta continuando a conoscere Luca e Alessio. . Anche se tra Angela e Luca c'è un rapporto molto conflittuale, entrambi hanno ammesso di provare qualcosa di importante l'uno per l'altra. . Che cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne? Questa volta Luca avrà il suo lieto fine?. . . . .